Siamo davanti alla segreteria del campo di Ampas nazionale, la segreteria è attivata H24 e gestisce le squadre per gli interventi sul campo. Fa partire le squadre entro le 8 della mattina, fa un debriefing a metà mattinata per capire e reinserirle poi nei tunni del pomeriggio. La sera vengono fatte riunioni con il coordinamento per definire gli interventi necessari per il giorno dopo e subito dopo la riunione la segreteria organizza i turni per gestire le squadre sul territorio del giorno successivo.